Incidente mortale intorno alle 4 di domenica mattina in un incrocio di Lido Lago lungo la litoranea di Battipaglia. Nello scontro fra due auto ha perso la vita un cittadino di 45 anni, di origini algerine, residente da alcuni anni a Capaccio Pestum. È rimasto ferito in maniera grave anche un 25enne di Capaccio Pestum alla guida di una Mercedes che è stato condotto in ospedale da un'ambulanza medicalizzata del Vopi di Ponte Cagnano. Sulla dinamica indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia. Dalle prime verifiche e testimonianze sembra che la vittima non si sia fermata all'incrocio per dare precedenza venendo presa in pieno dall'altra autovettura.